Buongiorno da Giuseppe Recca, l'ora di 22 aprile. La regione siciliana ha predisposto la bozza proposta denominata Competitività Sicilia più, una serie di interventi per la crescita e lo sviluppo imprenditoriale nell'ambito del patto di coesione sviluppo 2021-2027. Nella bozza ci sono anche le terme di Sciacca e Alcireale, dotazione finanziaria prevista a 90 milioni di euro. Sicurezza sul luogo di lavoro carente nell'azienda idrica Comuni Agrigentini, lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia, riportando una denuncia dei sindacati. Dopo aver inviato una nota all'Ispettorato Territoriale di Agrigento, i sindacati ritornano a minacciare uno sciopero e dicono che sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro AICA sarebbe inadempiente. Sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza per avere occupato due lavoratori in nero ad un'impresa idile che sta svolgendo attività in corso Umberto I a Sambuca. Il provvedimento è stato disposto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento. Elevate sanzioni per 20 mila euro. Il Partito Democratico ha definito l'elenco dei candidati alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Sicilia-Sardegna. Capolista sarà il segretario Elie Glein, a seguire il siracosano Antonio Nicita e la giornalista Lidia Tilotta, vice caporedattore del TGR Rai, come candidatura indipendente. Tra gli otto anche il deputato europeo uscente Pietro Bartolo e l'ex segretario regionale Giuseppe Lupo. Utilizzava i social network per cercare di vendere preziosi reperti che si era procurato in maniera illecita. I carabinieri della sezione tutela patrimonio culturale di Siracusa hanno recuperato una serie di oggetti di valore che erano stati trafugati da alcune chiese della diocesi. L'uomo che è stato denunciato non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Sport, pallavolo, il volley club Shaka non ce l'ha fatta a ribaltare del tutto il risultato della partita di andata della finale a promozione in serie B contro il Valle Valle Catania. Il sestetto Sacenze a Salemi ha vinto 3-2 ma non è bastato per conquistare la promozione in B in virtù dell'1-3 la sconfitta della partita di andata. Adesso bisogna fare un altro spareggio. Calcio, il profavare spugna il Gurrera per 4-1 rimontando lo Shaka che all'inizio della ripresa si era portato in vantaggio con un gol di Iraci. Dopo un primo tempo equilibrato i Sacenzi hanno sbloccato il risultato al 46esimo. Il profavare ha pareggiato con Lupo al 55esimo e poi nel finale ha dilagato con altre tre reti di Lapiana, Lucarelli e ancora Lupo. Nei roverdi chiuderanno il campionato domenica prossima a Geraci. La Ipponcara-Talentini di Shaka ha preso parte in Egitto alla Premier League, svoltersi all'International Stadium di Cairo. Alla gara riservata alle migliori atlete della classifica mondiale erano presenti Irene Marturano di Ribera e Emma Collette di Calamonaci accompagnate dal loro coach Marco Lentini. Non ce l'hanno fatto ad accedere ai quarti di finale. È stata però una bellissima esperienza. È tutto, buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.